Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento di Toscana Cine News per continuare a raccontare quelli che sono i principali eventi cinematografici di Firenze e non solo. Grande attesa nel capoluogo toscano per la dodicesima edizione di France Odeon, il festival del cinema francese che porta ogni anno i grandi nomi noti del cinema d'oltrarpe, diretto da Francesco Ranieri Martinotti. Quest'anno il festival ha tanti ospiti come annunciato tra cui i registi Martin Provost, Emanuele Moret e anche la famosa attrice Karine Viard e la giovane promessa del cinema francese Oulaya Amamra. A dare via il festival giovedì 29 ottobre sarà la divertente commedia La Bone Puse, diretta come annunciavo da Martin Provost che sarà ospite a Firenze. Di che cosa si tratta? Siamo in Alsazia e il film si svolge in un istituto per ragazze, per giovani ragazze della borghesia alsaziana. Queste ragazze devono imparare a diventare mogli e madri perfette, però purtroppo il vento della protesta del 68 e del femminismo bussa alle porte di questo istituto molto austero. Una commedia divertente che vede protagonista Juliette Binoche, Yolande Moreau e Noémie Lvosquy. E poi al France Odeon 12esima edizione, che ricordo si svolge dal 29 ottobre al 1 novembre al Cinema La Compagnia, con eventi anche all'Istituto Francese di Firenze, arrivano i film dai grandi festival. Due film da Venezia 77, un film dalla Berlinale e ben quattro titoli selezionati per Cannes 2020. Un'edizione di Cannes che purtroppo però è stata annullata e non si è potuta svolgere a causa dell'emergenza sanitaria, come ha raccontato al nostro microfono Francesco Ranieri Martinotti. Il fatto che Cannes non si è svolto ci ha un po' avvantaggiato, perché molti dei film che erano stati selezionati a Cannes abbiamo potuto prenderli in anteprima e quindi è un festival interessante fatto di anteprime, di film di altissima qualità. Diciamo che da Cannes arrivano quattro film, a partire da un film di Emmanuel Muret che si chiama Le Shots con Di, Le Shots con Fè, che è un intreccio amoroso come fa Emmanuel Muret con un attore, Schneider, molto bravo, insieme all'attrice Camelia Giordana. Insomma, tutti giovani attori bravissimi, è un film che consiglio a tutti, perché è anche un film che rasserena con lo spirito. Poi abbiamo un film invece di militanza ecologistica che si chiama Rouge ed è il film che parla di una fabbrica chimica che inquina l'ambiente e di tutta la battaglia di una giornalista e di una delle lavoratrici della fabbrica che si battono perché non si compiano più questi scempi di inquinamento. Il film è interpretato da un'attrice che era venuta l'altro anno qui a Franz Odeon che si chiama Zita Han Roth, che aveva vinto il premio Essenza del Talento ed è appunto anche questo che faceva parte della selezione di Cannes. Poi abbiamo un film per cercare anche di fare un'anticipazione del giorno di Halloween, faremo l'ultimo spettacolo di venerdì sera, un film horror molto divertente, ma in realtà non è un film horror, è un film fantasy con delle connotazioni horror che si chiama Teddy ed è un film che era anche questo, ripeto, a Cannes. Ma ad anticipare il taglio del nastro di Franz Odeon 2020 due eventi imperdibili il 27 ottobre e cominciamo dal primo, il documentario 30.000 miglia al traguardo firmato da Giuseppe Mangione e Gia Marie Amella. Qui si racconta la vicenda del navigatore toscano Francesco Capelletti, un uomo, un giovane uomo di Montevarchi che da sempre ama la vela ed è stato l'unico italiano a partecipare alla Golden Globe Race 2018. Sin dall'inizio lui aveva avuto veramente un sostegno incredibile, non solo perché lui è toscano, è nato a Montevarchi, ha una famiglia numerosa, ha tantissimi amici, ma in più anche il nostro cerchio di conoscenza, anche nel mondo professionale. Quindi ci sono state diverse persone che l'avevano seguito dalla prima ripresa, direi, ma non solo, ma anche c'è diverse associazioni in tutta l'Italia. Questa cosa ci ha appassionato talmente tanto e se ne è vista anche una possibilità di poter raccontare finalmente una storia di una persona che vuole inseguire il proprio desiderio. Abbiamo fatto un anno di riprese scadenzate, a secondo ci contattavamo regolarmente con Francesco e quando c'era delle occasioni importanti da riprendere, come per esempio la visita di Carozzo oppure la barca che andava in acqua, era sempre un'occasione per noi per andare a Livorno e fare le riprese. Le riprese a navigazione mi sembra siano più di 20 ore e queste sono state fatte tutte da Francesco con una sport camera da solo e lui appunto siamo rimasti molto contenti delle riprese che ha fatto perché lui ha dei ritmi cadenzati, faceva anche dei report, quindi Gifondina ci diceva quello che succedeva negli ultimi due o tre giorni oppure quelle che erano le sue emozioni e questo è stato molto d'aiuto per poter costruire la storia. Qualcosa che ci ho detto da tanto tempo e che è collegato intimamente con la mia passione per andare per mare, per andare in vela, ovvero la mia affascinazione per andare in mare è a un link diretto con il giro del mondo in solitaria e senza scalo, è qualcosa che io voglio fare da veramente da tanto tempo, da quando ho scoperto la bellezza della vera oceanica. Io rispondo all'impulso che è più forte di ogni razionalità. Momenti così critici da pensare che la mia vita fosse seriamente in pericolo, devo essere la verità, non ce ne sono mai state nei 50 giorni di navigazione verso Brasile, e nel 48 di rientro dal Brasile. C'è stata una notte in cui ho avuto abbastanza paura, una notte in cui il cielo è stato bianco di fulmini, di elettricità. La mia paura ovviamente era che in quel momento ero l'unica barca con tanto di albero che si protende verso il cielo nell'arco di decine di miglia, quindi ovviamente la paura era di essere preso da un fulmine. Ovviamente è un periodo del genere, 50 giorni per due, quindi 100 nel mio caso, da solo in oceano ti avvicinano molto al tuo io, il tuo interiore, e quindi se sei disposto ad ascoltarti senza filtri e senza scuse o scusanti, in cui sono i tuoi timori, ti scopri molto di te. Quello che posso dire è che ho trovato me stesso molto diverso da quello che credevo nel periodo precedente alla partenza, ovvero tutte le settimane, anzi mesi, di tensione estrema, di lavoro durissimo nel quale, mentre si lavorava a ritmi veramente quasi inumani, c'era anche sotto la sensazione che da un momento all'altro, veramente da un giorno a giorno dopo, sarebbe tutto potuto finire perché non c'erano soldi, perché non si riusciva a rientrare nei requisiti di sicurezza, perché la barca avrebbe potuto avere degli ulteriori problemi che mi avrebbero fermato, perché eravamo sempre veramente al limite. Lì, in quel frangente, ho scoperto un me stesso davvero diverso. Se c'è una cosa che vorrei trasmettere, è senz'altro che se uno ha un sogno, qualcosa che piace, fare, piacerebbe e che preme, si deve muovere. Si deve muovere e non mettere più niente in mezzo fra se stesso, fra il presente e questo sogno, perché comunque sia, i sogni bisogna conquistarseli, si può non fare niente perché qualcosa non accada, ma bisogna anche essere proattivi e a un certo punto fare qualcosa perché questo accada e il tempo passa e le chance diminuiscono con esso. Quindi uscite dalla porta e fate quello che vorreste per esodire i vostri sogni. Ciao a tutti a Fondazione Sistema Toscana, da Francesco, qua a Malta, e andate al cinema per 30.000 miglia al traguardo. E sempre il 27 ottobre a MAD, Murate Art District, si tiene a Firenze un altro evento imperdibile, la sesta edizione del Firenze Corti Film Festival. In questo festival ogni anno partecipano centinaia di giovani che presentano le proprie opere da ogni parte d'Italia e del mondo. Ci ha raccontato tutto al nostro microfono il presidente Francesco Grifoni. Sono arrivate circa 500 opere che sono state selezionate da una giuria di preselezione di 50 giurati, tra sceneggiatori, attori e giornalisti, e poi analizzato ulteriormente dalla giuria del festival presieduta da Emanuela Mascherini e supervisionata dalla nostra direttrice artistica Teresa Paoli. Il festival inizierà il 27, durerà fino al 30 ottobre, suddiviso in tre sezioni, le Murate Art District, che è la casa del festival presieduta da Valentina Genzini, una nuova partnership con la Limonaia di Villa Strozzi che ospiterà prevalentemente incontri con personaggi del cinema italiano internazionale, e l'Accademia delle Belle Arti, che è un partner storico del Firenze Film Courti Festival, che anche quest'anno con il premio cinematografico Spazio Giovani avrà una sezione specifica per gli studenti delle accademie che si cimentano col cinema. Tanti incontri, ripeto, con una grandissima attenzione a quella che è la comunicazione in un particolare momento. Infatti mi verrebbe da citare uno degli incontri che la Limonaia ci permetterà di ospitare, che noi abbiamo voluto intitolare Il Valore delle Storie, che avrà protagonista Giacomo Campiotti, legista di fiction, di cinema storiale, che ci accompagnerà puntando il dito su quanto sia importante la comunicazione nell'audiovisivo, soprattutto in questo periodo. Ma il corto è importante, è protagonista del festival, e quindi mi farebbe piacere anche citare un altro ospite che inaugurerà il festival il 27 ottobre, attore di cinema, di teatro, ma anche molto vicino ai corti. Sto parlando di Alessandro Haber, che ci permetterà di presentare il suo corto da regista, ancora inedito, sto parlando del gioco. Quindi tanti ospiti, giornata all'insegno della cultura e della partecipazione di nuove eleve del cinema del domani. Tutto è gratuito. Vi aspettiamo. Come avete sentito dalle parole dei nostri ospiti, tanti gli eventi internazionali, le anteprime, i documentari che ci attendono nei prossimi giorni. Saranno adottate, qui al Cinema alla Compagnia, ma anche alle murate e in tutti i cinema della Toscana, tutte le regole della prevenzione sanitaria. Quindi partecipiamo tranquillamente a questi eventi. Buon cinema a tutti. Arrivederci alla prossima puntata. Grazie. 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 Grazie a tutti.